Grazie Presidente. Malgrado il principio della priorità di genere, della tutela inderogabile dei diritti delle donne, unitamente all'urgenza di garantire pari opportunità nei molteplici comparti dell'agire sociale ed economica, siano identificati tra le priorità e tra gli obiettivi strategici delle politiche pubbliche, nazionali e internazionali, i dati confermano un trend diametralmente opposto, che colloca ancora l'immagine e il ruolo della donna in posizione di subordine, evidenziando in tal modo la sussistenza di un limite culturale, prima ancora che politico-sociale, su cui appare inderogabile agire con iniziative e interventi multilivello, certi e condivisi. Nel venticinquesimo anniversario dell'ultima conferenza mondiale delle donne che si svolse a Pechino nel 1995, i progressi della politica di genere appaiono piuttosto irrisorio, malgrado l'istituzione di una piattaforma di azione vincolante attraverso cui veniva ufficializzato un maggior impegno degli Stati per raggiungere gli obiettivi di uguaglianza, sviluppo e pace per ogni donna e l'impegno dei governi nella dichiarazione finale, far progredire gli obiettivi di uguaglianza, sviluppo e pace per tutte le donne, in qualsiasi luogo dell'intera umanità. Nei fatti, i dati in materia di parità di genere registrati negli ultimi anni risultano davvero impietosi. Non possiamo trascurare che il ruolo della donna risente anche di una palese subordinazione culturale, che negli anni ha condizionato l'immagine della stessa, come contaminata da un coltre di colpa correlata ad ambito afferente alla gestione familiare. Basti pensare che in passato le cosiddette madri frigorifero siano state individuate come causa dei figli cospretto autistico. Questa detenzione di colpa in capo all'immagine femminile si è evoluta nel tempo in una forma di asimmetria culturalmente e socialmente radicata in Italia, nella ripartizione degli oneri familiari, segnatamente sbilanciata a favore della donna. Secondo i dati Istat, la percentuale del carico di lavoro familiare svolto della donna nella fascia di età 25-44 anni, sul totale del carico di lavoro familiare della coppia, in cui in tambi i componenti sono occupati, sebbene abbia subito un decremento rispetto ai valori dieci anni fa, si attesta al 67% del bienno 2013-2014, evidenziando un palese sovraccarico di lavoro, sia esso sul versante professionale che familiare. Nello specifico, il 54% delle donne occupate svolge oltre 60 ore settimanali di lavoro retribuito e o familiare. Appare prioritario evidenziare che le politiche di sostegno alla famiglia risultano essere carenti, soprattutto per quanto attiene l'offerta di asili nido, intesi come principale e determinante riferimento per il sostegno della genitoralità in età prescolare, a condizione indispensabile, in assenza di altri supporti familiari, per l'inserimento e il perseguimento lavorativo della donna madre. Molte sono le madri con i figli minori che dichiarano di non utilizzare i servizi di sostegno come nido e babysitter, soprattutto per l'insostenibilità dei costi, qualora si faccia riferimento a strutture private e o in assenza di quelle pubbliche e o per la carenza di posti nelle strutture. Parlare di parità di genere non vuol dire ignorare la fisiologia, omettendo che nel corso della loro vita le donne siano anche madri o comunque siano sottoposti a uno stress fisico diverso, in ragione della loro natura e delle incombenze che questa determina. Per questo motivo non si può parlare di promozione dell'inclusione lavorativa femminile, omettendo adeguate e inderogabili politiche di sostegno e di agevolazione soprattutto in quelle stagioni della vita, come la maternità, che merita sostegno da parte dello Stato. Siamo in pieno inverno demografico ed è importante ripensare a tutto ciò di cui la donna e in definitiva la coppia e le generazioni future hanno bisogno. Le donne sono assistite molto bene in gravidanza, ma è il dopo che manca sia alle madri che ai padri, manca tutta l'assistenza appunto post nascita. Parliamo di diminuzione delle nascite, ma occorre pensare bene perché molti modelli, svedesi, francesi, aiutano molto la donna e in generale tutta la famiglia. E a noi perché non la aiutiamo? Da ex sportiva a livello agonistico penso anche come la donna sia più limitata rispetto agli uomini sul versante sportivo. La mancanza di parità di genere per le strutture fin da quando si inizia la pratica sportiva sta diventando sempre più chiara e evidente. Mancano strutture adeguate e sufficienti a far continuare lo sport alle ragazze in base alle loro esigenze fisiche. I temi della donna sono davvero tanti e quello della violenza è un tema molto molto complesso che meriterebbe credo discussioni molto più approfondite, molto più lunghe come tempistica, perché di fatto coinvolge la giustizia, la cultura, l'istruzione, anche quella scolastica. La violenza sulle donne non è mai nella maggior parte dei casi un evento improvviso, ma è l'arrivo di situazioni increscendo che spesso iniziano con forme di violenza verbale o comportamentale fino ad arrivare alla violenza fisica. Purtroppo sempre più spesso la violenza si svolge in ambiti familiari e i rapporti affettivi strutturati. Occorre intervenire sull'uomo e soprattutto sui giovani affinché possano prendere coscienza che di fatto la violenza sulle donne è una violenza su una parte di se stessi, alla propria maturità. La violenza dilaga senza freni, colpendo sempre più spesso donne e anche medico nello svolgimento delle proprie attività sanitari. È davvero vergognoso. Si ledano due cardini della società. Da una parte si leda il cardino professionale, dall'altra il rispetto personale della donna. La terapia, Presidente, è sistemica. Non si tratta solo di curare il sintomo, cioè l'individuo violento, ma tutto il sistema che ha generato tutto questo. Credo che siamo ancora lontani dalla parità di genere. È una strada in salite da percorrere con estrema determinazione.